Gino Orbartali è un grande campione ma anche e soprattutto un grande uomo. Assolutamente, Gino è un grande campione ed è quello che lui voleva che si ricordasse le sue vittorie e sono davvero incredibili e tante. L'unica cosa che non ha vinto è stato il mondiale, ma tutto il resto l'ha vinto e l'ha vinto anche più volte. Però non è solo questo Gino, noi abbiamo scoperto dopo la sua morte avvenuta 22 anni fa che eroe è stato nell'aver salvato più di 800 ebrei trafficando documenti segreti per farli uscire dall'Italia, ma poi anche tutta una serie di altre grandi iniziative proprio umane che lui ha portato avanti e che ancora oggi ci fanno ricordare di un uomo che non è stato solo un campione. Gino Bartali è anche un uomo di religione molto legato a Padre Pio, a San Pio. Lui veniva chiamato Gino il Pio per questa sua grande fede che fin dall'inizio lo ha accompagnato, lo ha aiutato quando è morto il fratello, lo ha aiutato nei momenti di difficoltà della guerra, lo ha aiutato anche proprio per la scelta del salvataggio degli ebrei ed effettivamente la sua fede fino all'ultimo lo ha accompagnato, ha portato al bavero della sua giocca sempre la spilla dell'azione cattolica ed è stato seppellito con l'abito del terziario carmelitano perché lui era molto devoto e addirittura aveva in casa una piccola cappellina che oggi è stata donata al Museo della Memoria di Assisi proprio per ricordare quanto lui ha creduto in Dio e quanto forza abbia ricevuto da questa sua fede. Una copertina accattivante per un libro che non è solamente per i cattolici. No, assolutamente, questo libro è veramente per tutti. Si apre con un fumetto, con un graphic novel dedicato alla storia proprio del salvataggio degli ebrei ma poi dopo va a vedere la biografia a tappe come è giusto che sia per un ciclista e poi c'è questo racconto del Tour de France del 1948 che Gino vince a dieci anni di distanza dalla sua prima vittoria e che avviene nel momento in cui in Italia si è a un passo dalla sommossa per l'attentato a Togliatti e questa sua vittoria che tiene unita l'Italia con lo sport nel momento davvero di grande tensione e poi alla fine c'è questa piccola intervista a Vincenzo Nibali a cui facciamo anche l'imboccalupo per questo giro che forse è l'ultimo che correrà e speriamo possa anche in questa terra farsi vedere su Blockhouse.